Sono Lucia Vigna, faccio parte del Comitato Impreditoria Femminile grazie al FIEB Donna, che è una branca della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, la più importante federazione italiana che gestisce la parte immobiliare e della mediazione immobiliare. Da sempre le imprese femminili sono molto attente e sensibili all'ambiente e a cercare di tutelare al massimo un'ecosostenibilità che abbia come perno il minore inquinamento e il minor impatto ambientale possibile. Quindi come CIF, come Comitato Impreditoria Femminile, siamo molto molto attente in merito. Infatti tutte le aziende capitanate da colleghe, da donne, sono molto molto attente all'impatto ambientale. Il Comitato Impreditoria Femminile da anni sta seguendo proprio l'agenda del 2030 delle Nazioni Unite legate al Green Network, quindi all'ecosostenibilità. Noi ci auguriamo che nei prossimi anni questa attenzione all'ecosistema e quindi a un basso impatto ambientale delle aziende sia sempre la prima regola da seguire per poter impattare sempre meno nell'ambiente e lasciare un mondo sicuramente migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti. Grazie.